Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova ora della Fata Verde, che noi registriamo le 17.30, più o meno era questo l'orario in cui a Parigi alla fine dell'Ottocento si trovavano per partecipare a quello che era un autentico rito, una bevuta di assenzio che non finiva più e che durava fino quasi a notte fonda per alcuni. Ma adesso noi su questo torneremo sull'assenio come fenomeno culturale. Torneremo soltanto alle fine settimana, mentre invece oggi come domani e come giovedì ci occuperemo esclusivamente del mercato italiano, mentre invece lunedì, come detto già ieri, ci occupiamo anche degli altri mercati in modo da poter dare continuità a quanto si era detto nel numero di domenica. Questo è un grafico a quattro ore lineare che rappresenta molto bene quel che sta accadendo sul nostro mercato a partire da maggio. Lo rappresenta molto bene come un mercato che non ha forza, diciamocelo subito, quantomeno ha avuto forza fino alla metà di giugno, poi dopo la metà di giugno ha dimostrato che non avvenne più, ma ha moltissima resilienza, come si suol dire adesso. La resilienza è un termine un po' abusato, normalmente per resilienza si intende la capacità di resistere a un urto, per capirci, senza rompersi. Direi che però il vero concetto, quello originale da cui nasce questo termine, e fa più riferimento al resiliente, è la capacità di ritornare ad avere la forma che si aveva prima dopo aver subito, se volete, una spinta. Per capirci, una palla di gomma ritorna molto velocemente a riassumere la sua forma. Se lo fate, non so, con un pezzo di pane, anche se la sua consistenza non è particolarmente dura, ci vuole un po' più di tempo. Con la mollica, se il pane c'ha mollica, comunque la forma la riprende a basso, e questo è poi fondamentalmente quel che il nostro mercato mostra di saper fare a partire dalla metà di giugno, perché tutte le volte che perde qualcosa cerca di recuperarlo, di verità alcune volte riesce a recuperarlo in pieno, o appieno, come è accaduto qui, si recupera appieno altre volte molto meno, e questa volta parrebbe essere uscito in ripresa perché fondamentalmente grazie alla giornata di ieri si è ritornati più o meno sui valori che si è avuto praticamente verso la fine di giugno, inizi di giugno. Adesso si tratta di capire se, oltre a questo, il nostro mercato è capace, è in grado di fare qualcosa di più di quel che si è fatto fin qui, perché il passaggio veramente decisivo sarebbe quello di passare dall'essere resilienti a tornare nuovamente forti, cioè il famoso detto compra sulla forza e vendi sulla debolezza, che non vuol dire assolutamente nulla, nel vero se la parola, però si comprende un po' più facilmente se voi pensate che questo è un mercato forte e questo non si può dire se è un mercato debole, perché un mercato debole in realtà non potrebbe essere così resiliente. Ecco, l'alternativa per il nostro mercato è o mantenersi resiliente e quindi semplicemente perdere del tempo, dei giorni, ma non credo che sarà questa eventualità, o tornare ad avere un trend a rialzo convincente per portarsi quindi oltre i massimi precedenti a cavallo di 26 mila punti, oppure diventare un mercato debole e quindi scendere sotto quello che parebbe essere al momento la soglia critica è quella dei circa 24 mila punti, come vedete qui, è tenuta, eccola qua, qui, lo vedete, 23 mila, 950 punti, adesso, personalmente sono molto contrario ad andare a sforculiare troppo sulle soglie, mettendoci anche le virgole, cifra tonda ci va bene, insomma, diciamo che fin quando ci metteremo sopra 24 mila punti, problemi non ce ne saranno, al momento il mercato mostra quanto meno in quanto resilienza quella di non scendere, oggi, ha dimostrato di non voler scendere sotto i 25 mila punti, il minimo grosso modo deve essere poco sopra i 25 mila punti. Se cambiamo il grafico e lo mettiamo, un grafico candlestick è certamente, per chi lavora con i grafici, un po' più utile per interpretare le cose, vedete come è un mercato che subbalza notevolmente un po' come i canguri, oggi c'è stato un momento, un autentico momento d'ammanco grosso modo qua che erano le scusatemi, questo era no, questo era il dicio, ah sì, questa, devo andare su un grafico che ha una durata un po' più, comunque, gli ammanchi non mancano, adesso andiamo a prendere un grafico molto più breve, a 5 minuti, e questo è quello che è stato praticamente l'apertura odiana, questo è praticamente un grafico a due giorni, una discesa, l'avevamo detto ieri che fate molta attenzione perché il mercato nel martedì potrebbe invertire la propria tendenza dopo che aveva avuto da martedì scorso un andamento decisamente lineare a rialzo, ora le cose stavano andando male, anzi, stavano volgendo al peggio in chiusura, ma come vedete, tac, un colpo verso l'alto negli ultimi 5 minuti ci ha permesso di recuperare una soglia un po' meno critica, un po' meno vicina ai 25.000 punti. come interpretare tutto questo? Direi in linea con quanto fondamentalmente ci si attendeva, cioè il nostro mercato ha al momento un destino ancora sufficientemente tranquillo, nel senso che non ci sono problemi veramente grossi, ma un'indicazione di criticità che proviene soprattutto dagli investitori che abbiamo visto nei giorni passati dare soprattutto la possibilità di rischiare di far cadere il nostro mercato in una fase distributiva anche di ampio respiro temporale quindi su base emissile. Molto probabilmente decisivo sarà il passaggio da luglio ad agosto, ormai non manca molto, e poi dopo ad agosto ne sapremo certamente di più. Se vogliamo vedere ancora andando un po' più dentro su quanto è accaduto, oggi andiamo a prendere un grafico a un minuto questo è il rialzo che vedete molto forte che abbiamo avuto questi sono i momenti di ammanco che non mancano nemmeno nei grafici a un minuto come vedete cioè ci sono proprio dei gap si aprono degli autentici gap a ribasso il che non depone normalmente a fuori del mercato perché quando si apropia un gap a ribasso lo stesso determina poi una caduta come vedete qui e come vedete qua adesso direi che in finale di giornata si è recuperata una soglia meno preoccupante vedremo domani quel che accade personalmente in questo momento il mercato il nostro mercato io non lo metterei in un portafoglio aspetterei momenti dove c'è una maggiore convinzione a fare questo e quindi vediamo appuntamento e a domani per tutti coloro che seguono questo appuntamento quello dell'ora della fatta verde sul nostro canale youtube mentre invece per i nostri clienti per questa sera con l'istante si chiama così il nostro video tutorial della sera che verrà pubblicato per chi può riceverlo a cavallo delle ore 21 buona serata a tutti appuntamento quindi a domani grazie